Stiamo realizzando, dopo aver tolto l'asfalto vicino al Duomo, tenuto conto che quest'anno sono i 1300 anni del Duomo e a ben vedere in nessuna parte d'Italia un Duomo monumentale come quello di Berceto ha mantenuto l'asfalto contro le proprie mura. Stiamo cambiando appunto dall'asfalto a dei lastroni in pietra, un lavoro molto necessario che darà le immagini di piazza Samoderanno molto belle e anche molto più ampia rispetto a quello che era prima. È un lavoro che è sostenuto anche dall'amministrazione provinciale visto che il tratto di strada che attraversa il paese è provinciale e speriamo tutti di inaugurarlo, se la bella stagione ci aiuta, il 25 di novembre con la presenza di un grande scienziato, un grande studioso, un professore universitario e scrittore di libri e considerato insieme a Jacques Le Goff uno dei più grandi medievalisti europei, Franco Cardini.